Mi chiamo Nikita. Quanti anni hai? Ho 14 anni. Da dove vieni? Vieni a Kiev. Mi chiamo German, ho 16 anni, vivo a Verona, mi piace Verona e frequento la scuola Carl Montanari. Sono da Ucraina, Odessa. Una vera sorpresa è da anche una festa a base di pane, olio e cioccolato per regalare alcune ore di spensi e riattezza di festa a questi bambini e ragazzi. Che assieme alle loro mamme sono arrivati qui circa un mese fa dall'Ucraina. Un gesto semplice nello stesso tempo dal sapore pasquale per togliere almeno per qualche ora il peso della lontananza dei propri padri e fratelli al fronte e la nostalgia del proprio paese e della propria casa. Volevamo proprio donare qualche ora di serenità a queste mamme e a questi bambini in un luogo splendido, è più un giardino che un olivetto. Per loro è tutta una sorpresa perché non sapevano nemmeno dove li avremmo portati letteralmente. E salendo i tornanti continuavano a dire wow, wow. L'impegno della nostra città nell'accoglienza di mamme e bambini, di persone che arrivano dall'Ucraina è grande. Anche nel mandare la aiuti. Continueremo ancora, questo è un esempio. Non ci siamo mai fermati e questo è solo un piccolissimo esempio dell'attenzione, della cura e dell'amore che facciamo e mettiamo a disposizione di queste persone con la grande consapevolezza della bruttissima situazione che vivono i loro connazionali e in questo caso i loro papà, i loro mariti di queste persone che noi oggi accogliamo in questo olivetto. Quando sono arrivati la prima volta li abbiamo accolti in questa struttura, in questa casa del comune, in piazza Renato Simoni, in centro a Verona. Erano molto smarriti però hanno trovato subito una casa accogliente e delle persone disponibili per loro e niente insomma adesso piano piano si sono inseriti a scuola tutti i ragazzi quindi sicuramente l'integrazione immediata nelle scuole è stata positiva per loro per l'integrazione e anche le mamme piano piano stanno trovando il loro posto e insomma tutti i loro comfort. Scenografia di questa festa, l'olivetto di Monica Vaccarella, un'azienda agricola, conduzione familiare, un luogo davvero di pace e serenità, gestito diretto e soprattutto amato da Monica che agli ospiti ha donato uova di Pasqua e dolci. Questa iniziativa nasce semplicemente per regalare un sorriso a questi bambini che sono stati accolti a Verona e un momento in mezzo al verde e a un olivetto che richiama proprio la pace e la speranza che è nella nostra religione, nel nostro credo.